Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Questo video seguirò una routine di Pinterest per 24 ore. La routine in questione è questa qui, è una delle poche che ho trovato perché le altre erano tutte school routine, quindi si fermavano nel periodo della scuola, mentre io volevo una routine completa di tutto il giorno. E niente, vi lascio al video. Ciao! La sveglia era puntata per le sette e mezza, poi ho guardato un po' il cellulare e in seguito era previsto un breve workout dove ho fatto stretching. Poi alle 8.20 mi sono preparata e ho piastrato i miei capelli. E poi mi sono vestita. Questo è il risultato finale dei miei capelli piastrati. Poi alle 8.40 ho fatto colazione, ho scaldato il mio latte. Poi ho aggiunto lo zucchero e messo il less cafe e mescolato il tutto. Poi alle 8.55 c'era scritto di lavorare. Il mio non è un lavoro, ma è comunque un hobby che mi richiede molto tempo. Quindi ho pensato a idee per i video, mi sono messa ad evitarli e a studiare. Poi alle 12.55 ho pranzato. Io in questo caso ho mangiato delle carote e del pollo. Dopo il pranzo a Luna c'era ancora da lavorare, quindi mi sono rimessa al computer. Io alle 2.30 ho riposato e alle 4.00 ho fatto venenda con delle patatine. Poi alle 4.30 mi sono preparata per fare il mio solito workout. Ho preparato il tappetino, qui ad esempio c'è anche il mio gatto che si era accampato, e il workout da fare. Alle 5.00 mi sono riposata e poi alle 5.30 ho fatto il mio bullet journal. O meglio, mi sono segnata le abitudini che avevo rispettato quel giorno. Alle 6.00 ho cenato e poi alle 6.30 mi sono messa a vedere la TV, precisamente Netflix. Alle 7.30 ho fatto il bagno e alle 8.00 ho guardato di nuovo Netflix. Qui in questo caso stavo guardando Dynasty. Alle 9.30 dovevo leggere, quindi ho letto questo libro e alle 10.00 mi sono addormentata. Questo video si conclude qui. Io vi ricordo di mettere like al video, attivare la campanella degli iscritti, iscrivervi e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie.